Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui su Delta Channel insieme al vostro Firewolf E la vostra Debbie Click La sfida continua, l'ultima volta ha vinto Debbie Click nello spacchettamento del Federick Store Ve lo lascio qua in info box E ora nuova sfida perché si continua Se vince lei ovviamente ha vinto lei questa sfida Altrimenti se vinco io finiamo in parità E quindi automaticamente la sfida continua Detto questo oggi andremo a spacchettare la bellezza di 6 pacchetti di futuri campioni Più un pacchetto ragazzi del leggendario Destino Fulgente Bene ragazzi io direi di partire subito E ovviamente ragazzi siccome c'è un pacchetto Destino Fulgente Supportate lasciando un bel like bello sostanzioso qua sotto E iniziamo Rieccoci come sempre sulla tavola di Mick Electric Che potete trovare ovviamente come è stata creata in info box E noi partiamo subito con questa sfida Oggi siamo velocissimi e scarichi Quindi vedremo soprattutto chi vincerà tra noi due ovviamente Come tutte le sfide codice in regalo Mi raccomando ragazzi insegnatevelo Iniziamo con questo pacchettino di futuri campioni Ricordatevi che chi prima arriva ben alloggia Ok io sono pronta quando vuoi partiamo Anch'io Allora un attimo prima di tutto volevo ricordare che in questi pacchetti è quasi sempre sicura la Olo Quindi Non verrà contata Quindi in questo caso non verrà contata ok Il punteggio viene contata solamente con le V Le Vimats Le Hyper Le Full Art E via così Esatto Cioè tutte tranne le Olo Esatto Le Reverse Rock and Rolli Un'energia a fuoco ragazzi E ne ho un pacchettino più veloci Un'ostadio Tunefird Un bel Victini Un Hatrem Che è l'evoluzione di Atena Io sono la Reverse Anch'io sono la Reverse Adetta dal centro Pokémon 3, 2, 1 Oddio Iniziamo bene con il Venus RV Cioè vabbè ma Dai vogliamo parlare Che fortuna Vogliamo parlarne il mio starter per eccellenza L'avrei detto fino alla nausea in questi video Ma vabbè Ok Venus RV con bomba di polline e tifone solare Wow bella carta Due punti e debit click Subito in vantaggio di due punti Debit click Oh neanche parlare Abbiamo iniziato bene Poi con quale carta Cioè io mi emoziono con poco L'ammetto L'ammetto Se dovesse vincere Debit click Io ho finito Mi sa Io ho finito Allora solo un attimo ragazzi Perché i pacchetti Sono estremamente difficili Da aprire Questi Ok Vai vai pure Debit click Io intanto mi porto avanti Vai 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 Tu hai già fatto Sì Dobbiamo partire con le carte appunto Allora Io ho seguito qualcosa ragazzi Ho seguito qualcosa Mi sa che ho visto anche qualcosa Non vorrei sbagliare Ma dai Anch'io Mi sa che anch'io Rockraft Woolpits Cura totale Una bella potioncina Una cura totale ragazzi L'Ecans Cattivo Energia elettro Malmar Energia Thunfield Poi abbiamo Sonia Diapard Un obstacle Reverse Ok Ok 3 2 Uh 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 Vai Eh No ma che bella Il creme e V Con Praline dolci E dolce splash Molto molto bella Fala vedere bene nei particolari Oh yes Perché veramente è molto molto bella Guardate gli occhi ragazzi Ma adesso lascio posto a te Purtroppo altri due punti a debi click Ma io invece ragazzi Purtroppo ho trovato lo schifo Come vedete Graplock V Full art Però Purtroppo sappiamo come Tutto Sappiamo benissimo Questa che è una carta che nessuno vuole Però Mi da tre punti 4 a 3 ragazzi Allora È in vantaggio di un punto debi click Ma non è ancora del tutto Ho detto che io non vinca Dai che il team debi click Si fa riconoscere Eh è un po' troppo Da qualche parte del mondo Uno che partecipa al team debi click Sta trovando carte rare No? No me la sta tirando bene Ah ok Ok io comincio con un bellissimo Vulpiz E tu con un bel scraghi Andiamo subito Match up Rock and roll Rally cally Carvana Nikit Pozione E can Un'energia buio Energia erba Un arbok buio ragazzi Smart Rotom Hop che mi stai veramente tantissimo sai dove Smart Rotom Negli 8 Io sono alla reverse Bellissima reverse Vulpiz 3 2 1 Olo Olo Purtroppo non si contro Le Olo Quindi niente Prossimo pacchetto E via Io posso ancora raggiungerti Ho trovato una full art Posso ancora raggiungerti Però ragazzi Mai dire mai Qual è la carta a cui stiamo appuntando tutti? Come nominare? Il Charizard V? Il Charizard V E il Charizard V Ovviamente Ultra Shiny O forse è addirittura peggio dell'Ultra Shiny Perché da quello che ho sentito dire in giro Forse è una rarità maggiore dell'Ultra Shiny Quindi non saprei che livello di rarità potrebbe avere Vabbè è un Charizard ragazzi insomma Sì Che ve lo giuro se lo trova per caso Debbie Click Io interrompo il video qua Ve lo giuro ve lo giuro Do la vittoria a lei E da questo momento Pokémon verrà trattato da Debbie Click E basta E cosa ti c'è da te Yol? Ci dimmi Yol Va benissimo Allora io ho trovato una energia Olo Tu cos'hai trovato? Vediamo in fondo Machia Preverse 3 2 1 Io niente una Olo Incineror B ragazzi Il mio starter Guardate quanto è bello Quanto è figo Veramente Super Mega fiammata E fuoco incursione Degli attacchi veramente molto molto potenti E questa carta mi porta a due punti in più Quindi sono 4 E 5 Allora ragazzi I spacchettamenti di Ovviamente i futuri campioni non sono finiti Perché dopo questi pacchetti ne abbiamo altri Stanno andando bene direi Stanno andando piuttosto bene Ve lo dico sinceramente Io lo spero Lo spero ragazzi Io lo sto sperando perché So che in tanti l'hanno trovato E mi piacerebbe essere uno di quei tanti Sinceramente Widow 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 Swabu Leon Di Galler No c'è comunque questo bellissimo Un bello Regine Chiamiamolo così Poi un bel Rocky Roy Nickit Siamo all'energia Andiamo avanti Stadio di Turfield Kabu Ovviamente Bidriel Cibo in scatola sospetto Beh Effettivamente Filino Fuma un pochettino Megaball Victini Siamo alla reverse 3 2 1 Topio Zygarde Che però Non porta a niente Ultimo pacchetto Di futuri campioni Poi ti passare Sino sfuggente Ragazzi Io voglio solamente dirvi Che in questo momento Sono in vantaggio di un punto Ma tutto può cambiare Tutto può cambiare Soprattutto nelle nostre sfide Sì Ormai l'ho capito Questa cosa Allora Tanto qua Sono riuscito ad aprire Oddio Ok Adesso voglio vederti A fare il trick Oddio Fate Aspetta Mettiamo così 1,2,3,4 E mi è scivolata Abbi pazienza Scusa Mi è sembrato di sentire qualcosa No anch'io Ma non sono sicuro Io si Inkai Machop Athena Che i cavalii d'orzodio Siano con me ragazzi Rockraft Fultis Energia elettro Hop Megaball Bridrill Yaro Smart Rotom Il suo stadio Rockraft Siamo alla reverse 3,2,1 Niente Ginepro Dillo tu Dillo tu Che tipologia di carta è Dillo tu Vai però Arcobaleno 4 punti per debbie click Era già a 4 Arriva a 8 Bellissimo questo Ginepro Chiamato in lingua inglese Piers Fantastico Ragazzi Cosa dire Siamo a un pacchetto Guardate che bello Destino sfuggente È con noi Praticamente quasi introvabile Ormai Questi sono Gli ultimi due pacchetti In mio possesso Li tenevo da parte Teneva come se fosse Lo Santo Graal Firewolf Ovviamente ho deciso Di aprirli Perché sono curioso Di beccare almeno Uno dei Charizard E questo codice Di forti fortuna Ragazzi Adesso io un pochettino Ti riesco a aprire il pacchetto Perché non mi ricordavo Che erano così Sigillati bene Ma che questa sigillatura Sia una cosa buona Esatto Via 1,2,3,4 E io sono rimasto Prendendo 1,2 Ragazzi Non lo sento assolutamente Niente Niente Cubone Cubone Ovviamente qua le olo valgono Perché in destino sfuggente È diverso il discorso Koffing Paras Cubone Energia a fuoco Energia a lotta Charmedion Determinazione di Misty Chancey Un bel jeans Tenaccia di Brock Un'addetta del centro pokemon Addetta del centro pokemon Reverso Siamo alla reverse 3,2,1 Brock Olo Bellissimo Bello Molto molto bello Purtroppo Non è il Charizard Non è il Charizard E non mi dà abbastanza punti Per poter vincere Sù dei big date Ok Vi facciamo vedere Tutte le carte olo Che abbiamo trovato Che non valgono In questo caso Quindi partiamo Con un bel tris di zigard 1,2,3 Ok In seguito abbiamo Questo bellissimo machamp Che non è niente male Questo obstacle di galar Che avevo già trovato io Nell'episodio precedente Mi sembra Sì molto bello Sul canale Sempre bello comunque E poi per ultimo Abbiamo Un centiskork Sempre olo Che viene chiamato Addirittura Il bluff Dei pokemon Perché l'hanno trovato Quasi tutti Questo centiskork Ma ora andiamo A contare le carte vere Ragazzi Allora Intanto In destino sfuggente Io ho avuto la fortuna Di trovare Questo allenamento Di Brock Molto bello Olo Che mi è valso Un punto Perché questo Ovviamente Raccontiamo Perché era in destino sfuggente E non In futuri campioni Dopodiché ragazzi Per rarità Abbiamo trovato Questo Inferior B Una carta Veramente Molto molto bella Che sono molto Condito di aver trovato Perché è il mio starter Preferito Tra quelli di sole e luna Ragazzi Tra l'altro L'ho scelto diverse volte Litten Per me È il numero uno E per ultimo Abbiamo trovato Stafetechia Che però Mi ha dato 3 punti Comunque Stafetechia qui Ovvero Un Graplock V Full Art Che mi ha dato 3 punti Per un totale Di 6 punti A me Ma Debbie Click Cosa ha trovato? Allora Come i primi Vi mostro Venusa V E l'Alcremi V Bellissimi Che mi aggiudicano 4 punti Insieme Quindi Praline dolce Dolce Splash Contro Bomba di Polline E Tifone Solare Ma Ma Quella che mi ha portato Su con il punteggio È stato questo bellissimo Ginepro Hyper Arcobaleno Che mi fa guadagnare 4 punti Per un totale di 8 punti Portati a casa Per il team Debbie Click Confermando La vittoria di Debbie Click Purtroppo Ragazzi Spacchettamento Finito Futuri campioni Mi stanno dando Un sacco di soddisfazioni Tantissime carte Veramente rare E belle E quasi tutti i pacchetti Una pacchetto Cioè non contando le Olo Sì perché le Olo ormai sono Di tutti i pacchetti Però L'importante è che abbiamo trovato Tante B E un trapugnette di Imas Però La bella arcobalena L'abbiamo trovata Ragazzi È sbucata È uscita da quei pacchettini Allora Questa sfida Da vince Debbie Click Quindi automaticamente Ha vinto anche la battaglia In questo caso Ho vinto la guerra Hai vinto con tutto Sì vabbè Dai ho capito Non andiamo a incidere Però devo darvi Tra righezze Una brutta notizia Per un po' Non vedremo Nei video Spacchettamento Debbie Click O magari potrà anche capitare Ovviamente se sia al tempo Sì perché Al momento Debbie Click Ha diversi impegni Al di fuori del canale E ovviamente Dovrà sostenere quegli impegni Ma però Mi vedrete comunque In singola Sempre sul canale Perché non riuscirò A prendere parte Più di tanto Ai video di Firewolf Ma i miei Vi vedrete sempre Quindi continuate a seguirmi Per spacchettamenti E classifica Netflix Ovviamente Come appunto Vi ha detto Debbie Click Lei c'è sempre qui sul canale Quindi sostenetela Anche perché Come vi ricordo Sempre questo è un canale Multitematico Quindi non ci sono Solo io che tratto Pokémon Ma c'è anche Mick Electric Che tratta arte C'è Dark Ghost Che tratta horror E vari gameplay Tra cui anche Dragon Ball Perché Dragon Ball è Panda Skylighter Perché tratta ovviamente Film E musica In generale Comunque seguitelo Perché è molto Molto particolare Mamma Cookies Che vi dirizia Con le sue ricette Quindi non demoralizzatevi Se tutti i venerdì Non vedete sempre Lo stesso personaggio Sul canale Ma appunto Come ha detto Firewolf Essendo un canale multitematico Siamo a giro A giro Usciamo tutti Quindi continuate a seguirci E iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Se questo video vi è piaciuto Come sempre Sosteneteci con un bel like E noi ci vediamo A un nuovo e prossimo Video Ciao Ciao